ciao a tutti in questo video faccio vedere come si può passare da un acquarello banale che è già stato dipinto secco lineare troppo scontato in qualche cosa di più interessante utilizzando acqua colori un poco di fantasia e soprattutto pennelli di grande formato quello di cui avete bisogno è una serie di pennelli piatti abbastanza duri potete addirittura utilizzare i pennelli dell'olio oppure i pennelli che utilizzate per altre tecniche come l'acritico perché serve utilizzarli per spalmare l'acquarello in una maniera un poco più consistente adesso vedremo ciao a tutti 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 e adesso aggiungo del colore che è praticamente quasi solito perché voglio voglio rendere un po più plastico il corpo di questa persona sulla sedia a rotelle che sta spingendo lungo questa strada verso la telecamera che inquadra quindi voglio aumentare il contrasto tra chiari e scuri e fare qualche dry brushing ciao a tutti 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 sono contento e quindi mi concedo finalmente una colazione Grazie a tutti Grazie a tutti